musica 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 dobbiamo andare giù a sinistra e qua a destra musica 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 pulassi musica watching C'est mort, c'est mort Alla tweeting Ok Niente sorpresa Salva 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 Adesso andare a destra Ora 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 Esattamente come dovrei fare qua Ora 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 Vittare così le cose Mio! Cosa? non me morì orì non me morì salva 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 già andiamo a continuare a saltare qua oh che l'ho fatta ok vado ad andare giù d'accordo al lato del pezzo della mamma di sotto ok 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 rara ok 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 oh ragazzi sembra sono vista proprio ok 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 no 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 aiii guarda l'ho preso eh oh la la ok andiamo così ce l'ha fatta e vai come supponevo prima io l'ha salvato guarda la sinistra salviamo ooh guarda la no ragazzi sembra sono vista brutta io però salvo fuori non non no sono sono Grazie.